Prima di immergerci in questo video, desidero ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di concedere un mi piace. Grazie. Una nota di tristezza ha oscurato il panorama televisivo italiano nelle ultime ore, portando con sé una notizia drammatica. Una stimata partecipante ha vissuto un lutto devastante. Una figura di rilevanza è venuta a mancare nel corso della notte. Stiamo parlando di Nancy Coppola, la rinomata cantante neomelodica napoletana, celebre per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. dove si era piazzata al quarto posto. L'annuncio struggente è stato condiviso da Nancy Coppola attraverso i suoi canali social. Nel suo messaggio, la cantante ha comunicato la dolorosa perdita, sua cugina Nunzia. Di soli 43 anni, ci ha lasciato nella notte. Nancy ha fornito i dettagli relativi ai funerali, previsti per oggi, 29 dicembre, presso la parrocchia Maria Immacolata Assunta in Cielo. Ufficiati dal padre Gaetano in via Ferrante imparato a San Giovanni a Teduccio, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte dei fan e dei colleghi, che hanno espresso solidarietà alla cantante e alla sua famiglia. Nancy Coppola ha condiviso il proprio dolore, dichiarando, Oggi mia cugina Nunavolio è venuta a mancare, ha 43 anni, figlia di mia zia Grazia e sorella di mio padre. Ritenendomi in dovere, avverto tutti coloro che le volevano bene che i funerali si terranno oggi nella parrocchia indicata. Vi terrò aggiornati tramite le storie. Lei, la mia cuginetta, l'amica d'infanzia, ha distrutto la mia vita. Mi mancherai incommensurabilmente.